Ci stiamo impegnando da tempo per capire le problematiche dei nostri territori e ci spendiamo in prima persona. Quindi il nostro non è un modo di fare politica di elite, il nostro non è un modo di fare politica fondata sulle parole, ma è un modo di fare politica approfondito e oserei dire anche tecnica. Abbiamo fatto tutti i incontri con esponenti del nostro territorio per ascoltare. Quindi siamo convinte che è necessario ascoltare il territorio e soprattutto trovare una soluzione per garantire le persone più in difficoltà. Il nostro vento è verde e quindi dobbiamo dare spazio alla speranza contro l'odio. Abbiamo 11 anni di tempo per fermare i cambiamenti climatici e noi siamo in prima linea anche per studiare le soluzioni e proponiamo la transizione alle energie rinnovabili al più presto perché è oggetto. Quindi votare Europa Verde è fare la differenza. Significa permettere a noi di lasciare il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato e solo con i verdi questo è possibile.